Assessore, torna allo spettacolo Miss e Mr. Dog a Pescara dopo il grande successo di Francavilla. Si parla di animali e si parla anche di beneficenza in questo caso. Sì, è uno spettacolo che va tutto devoluto alla Lega del Cane. Quindi ne abbiamo approfittato di avere questi nostri protagonisti, la Lima e la Raspa, dove faranno un grandissimo spettacolo e dove si andrà a sensibilizzare sia l'adozione e sia il non abbandono dei cani perché con l'avvicinarsi del mese di agosto sappiamo tutti che abbiamo le nostre vacanze e molti purtroppo dei nostri amici vengono abbandonati. Noi lavoriamo per questo 365 giorni l'anno, è un lavoro continuo e costante e per noi è importante non solo sensibilizzare al rispetto degli animali, quindi tutti, cani, gatti, anche tutti gli altri, ma anche appunto come diceva giustamente l'assessore cercare di farli adottare. Nel Canine Pescara ci sono tanti cani che cercano ancora una casa, per noi è molto importante che tutti la trovino. Sappiamo purtroppo che magari tutti tutti non la troveranno, però insomma se riusciamo a farne adottare il più possibile noi siamo sempre tanto contenti. Il nostro obiettivo principale è quello. Dopo il grande successo di Francavilla, Miss e Mr. Dog sbarca a Pescara in Piazza della Rinascita. E caro amico siamo pronti a fare il botto domani sera, quindi vi aspettiamo numerosissimi perché ne vedrete delle belle con questa banda animati. Ricordiamo che il fine è sociale, ma passando attraverso l'ironia è il grande divertimento perché avremo tante cose da proporvi e tanti scoop. E per gli scoop passiamo la parola a questi qua, che se ne intendono. Vogliamo anticipare qualche scoop? Sì, allora abbiamo una coppia di ballerini acrobatici rock e non posso aggiungere altro. Cosa vedremo domani sera? Domani sera vedremo cose mai viste, che voi umani non potete neppure pensare. Faremo i nostri sketch, faremo i classici personaggi abruzzesi. Domani vi aspetto tutti quanti domani e faremo veramente un casino.